Abbiamo visto dunque il sistema energetico. Passiamo ora al secondo dei sistemi, quello che hai scoperto immediatamente dopo. Un altro sistema straordinario, importante, quello simbolico. Asta, cerchio, triangoli, questi simboli sempre presenti nella nostra vita. Dunque, questo sistema di comunicazione analogica, ossia emotiva, quello del simbolismo, asta, cerchio, triangolo, prende consistenza dal nostro vissuto infantile-adolescenziale, dal nostro rapporto con i nostri genitori. Gli elementi che entrano in gioco sono tre, perché due sono i genitori e il terzo elemento siamo noi, nell'interazione genitoriale. Quindi, in questo caso, potremmo definire l'esistenza di tre espressioni simboliche geometriche a rappresentazione dell'essenziale simbolico di questi oggetti. Infatti, passiamo dal sistema energetico, espresso con prossemica, cinesica, paralinguistica, digitale, al sistema meccanicistico degli elementi, ossia al sistema in cui vengono presi in esame gli oggetti. I primi oggetti di rappresentazione della nostra vita, a cui faranno seguito poi tutti i duplicati simbolici che noi andremo a incontrare nella nostra vita. Perché asta, per esempio, rappresenta il simbolismo paterno, ma al contempo anche quello di maschio e quindi, in qualsiasi rapporto che noi possiamo avere con persone dello stesso sesso maschile, noi porteremo un know-how di esperienze vissute all'interno del rapporto di nostro padre. Quindi, asta, padre e soggetti maschili. Dicasi la stessa cosa per il triangolo, che potrebbe essere espresso attraverso diverse forme espressive, anche se non altro quello delle coccole, in sostanza, sul cerchio, è molto importante. Vedete questo accarizzare, quindi ha un suo significato, come ha un significato questo toccare con asta il cerchio. Perché? Perché il cerchio rappresenta invece l'espressione di noi stessi, il punto fermo. Il punto fermo della nostra identità è il cerchio. È un puntino che si allarga sempre di più, fino a diventare forse anche egocentrico, ma quindi è sempre la rappresentazione del cerchio. Quindi il cerchio siamo noi, nella nostra identità. L'asta, il padre e i soggetti maschili, il triangolo, la madre e i soggetti femminili. Poi possiamo mettere insieme il cerchio con il triangolo, ecco, in questo modo. Come possiamo mettere insieme il cerchio con l'asta, in questo modo. Come possiamo tranquillamente mettere il cerchio a toccare l'asta, in sostanza, o viceversa a toccare il triangolo. Il cerchio ha sempre un toccamento a tenaglia, è molto importante questo. Vedete? Il toccamento a tenaglia, in qualsiasi espressione, rappresenta l'atto stimolante del cerchio. Messe insieme questa postura, in realtà le combinazioni sono otto, simbolicamente parlando. È come se tu mettessi in relazione te stesso con il padre, allora in questo caso asta, oppure asta e cerchio. Metti in relazione te stesso con la mamma, asta e triangolo, quindi coccole, avvolgente e via dicendo, in qualsiasi modo esso si manifesti, ecco, e quindi abbiamo diverse combinazioni. C'è un test che poi vedremo anche. Un test che si chiama il test analogico, che anche questo deve essere espresso e manifestato con il suo codice del sì e del no, ossia di risposta e di rifiuto. Quindi potremmo definire, perché sono otto combinazioni, così questo avrete l'opportunità poi di evidenziarlo con l'evento pratico. Sono otto combinazioni possibili, la messa insieme, la sequenza di queste espressioni simboliche, perché due sono i genitori, ma ciascun genitore presenta due modelli diversi contemporaneamente. Il papà presenta il modello paterno, ma presenta anche il modello maschile. La mamma presenta anch'essa il modello materno, ma anche quello femminile. Quindi sono quattro modelli, questi due eventi, che già abbiamo espresso di modelli di rappresentazione. Questi quattro modelli, padre due, padre maschio e due madre femmina, diventano quattro. Poi, a secondo di quella famosa tipologia distonica di appartenenza della persona, essere o avere, ciascuno di questi quattro può appartenere alla distonia dell'essere o dell'avere. Quindi, quattro moltiplicato due, otto combinazioni. Quindi, ripetiamo, giusto per ricordarlo, la distonia dell'essere riguarda le persone che tendono a coinvolgersi nel desiderare, quindi nel porre ostacoli al possesso. Mentre quella dell'avere coinvolge invece le persone che si interessano molto di più al possesso, quindi tendono a possedere ma non desiderano. Come a dire che si agganciano l'avere a persone che si presentano disponibili e l'essere invece si aggancia a persone che non si presentano disponibili. E ne vediamo molte di queste cose nella nostra quotidianità, un po' tutti noi. E quindi ci troviamo di fronte a queste possibili quattro combinazioni, che moltiplicato per due diventano otto, e rappresentano praticamente l'aspetto prettamente cognitivo, ossia la rappresentazione in mappe di appartenenza degli individui, che ciascuno di noi può far parte di una di queste otto possibili combinazioni. Tu appartieni, sei un conflittuale padre, sei un conflittuale madre, sei appartieni praticamente alla tipologia distonica dell'essere o dell'avere, o sei addirittura un conflittuale te stesso. E questo è tutto quello che si evidenzia durante il test analogico. E questo poi si traduce in comportamenti? Certo, il fatto è capire che esiste questo secondo sistema di comunicazione, che è quello meccanicistico simbolico, che si basa proprio sulle tre espressioni, asta, cerchio, triangolo. E vediamo ora come si sensibilizza l'inconscio proprio con questi simboli. Vedremo che su uno di questi la persona verrà avanti, e quel simbolo sarà proprio ciò che attrarà il nostro inconscio, in termini di comportamenti, persino di accessori che noi scegliamo, di scelte, di toni di voce. E lo vedremo chiaramente adesso nell'esperimento che segue.